Anticomestiere è un brand, è un brand che comprende una commerciale e due aziende di produzione di terracotta. Il nostro core business è la terracotta, la terracotta chiama la tradizione, quindi la rifinitura a mano, un prodotto naturale che viene preso dalla terra. La cosa importante oggi è l'innovazione e quindi riuscire a trovare il compromesso e l'equilibrio perfetto tra la tradizione e l'innovazione e questo possiamo farlo attraverso nuove forme senza mai snaturare quello che è la natura della terracotta, quindi la base di argilla e la produzione semplice rifinita a mano, ma con idee nuove e servizi sempre più moderni, quindi riuscire a aiutare il nostro cliente a vendere, a far conoscere meglio, a far trapassare l'informazione, a far conoscere anche il processo produttivo grazie a internet e alla diffusione di siti web, B2B o comunque, ecco, innovazione tecnologica. Quest'anno abbiamo portato un prodotto in terracotta smaltato e dipinto a mano, sarà una limited edition in tre collezioni che verranno prodotti in 200 pezzi per forma. Finiti quei 200 pezzi sarà finito il prodotto perché vogliamo provare a rimodernizzare, a far entrare nelle case anche di delle nuove generazioni, quello che è la terracotta. Abbiamo portato un nuovo prodotto, Stirene Espanso, molto leggero, già studiato e già provato all'esterno, appunto utile per i terrazzi per l'arredamento in verticale, quindi il classico, l'idea è il Bosco Verticale di Milano, cioè di ricreare quell'arredamento nelle terrazze. Visto che un prodotto pesante è di difficile utilizzo, abbiamo cercato questa soluzione che è comunque collegata ad un'economia circolare, cioè prodotti reciclati che possono essere reciclati una volta finito l'utilizzo del prodotto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!